Aspetta, adesso vi faccio vedere come viene il video Faccio vedere solo il quadro un attimo Faccio vedere solo il quadro un attimo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Una grande, Andrea, una grande Sì 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 Sottotitoli e revisione a cura di QTSS Sottotitoli e revisione a cura di QTSS Sottotitoli e revisione a cura di QTSS Sottitoli e revisione a cura di QTSS Sottitoli e revisione a cura di QTSS Sottitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti!